Il 23 giugno, 40 milioni di cittadini britannici sono chiamati alle urne per esprimere la propria posizione sull'appartenenza o meno all'Unione Europea. I sondaggi danno il fronte del Remain e quello del Leave testa a testa e Unews è andato a sentire la voce del Remain. Non capisco la implicazioni di lasciare l'Europa. Ci sarà un disastro per noi, ci sarà un disastro per l'Europa. In realtà, io mi sento più europea che i brittici di ora. La possibilità di stare in quanto è la più grande economia in il mondo far outweighi le risposte e l'unodio territorio di passare fuori. Obvious, unilogico choice per l'Unione Europea. Non ho mai avuto un vero dubbio di questo. Slightly saddeno con la forma che la campagna si è sviluppato. I just think the tone of the referendum debate is terrible. I truly believe that the EU is not as bad as it's been painted and it's far better than the alternatives that Courage and Boris Johnson are actually offering us. I think, as somebody of this generation, I feel international. I don't feel like my identity is just wrapped up in the UK. I'm voting Remain, staying in, because I've benefited enormously from being part of the European Union and my family have as well and I'm not in favour of all this nonsense about immigration from EU countries. I'm absolutely in favour of staying in the European Union for the sake of London. London is a metropolitan, international city. We need Europe and I think Europe has a great future and people should not worry about immigration.